Pronto, buonasera a tutto lo staff e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Innanzitutto benvenuta su RSS, per la prima volta con noi. La prima volta abbiamo Genni. Grazie mille, vi ringrazio per questa opportunità. Allora, intanto presentati al pubblico, brevemente, per dire al nostro pubblico che cosa ti occupi, di quale genere è più buono al pubblico. Sì, allora, io mi chiamo Genni, sono di Palermo, ho 32 anni e sono una cantante neomelodica. Per quanto riguarda il tuo repertorio, tanto da quanto? Da quanto tempo? Allora, io canto da 17 anni. Ho cominciato, che ero piccolissima, ho cominciato facendo piano bar, ricevimenti privati, poi sono approdata in varie tv locali, insomma, della Sicilia, appunto radio, feste di piazza, sono stata anche a Napoli. Quindi conosci bene il mondo della radio e la tv? Sì, sì, abbastanza, abbastanza. Abbastanza bene. I tuoi brani, appunto, da quanto la tua musica va in giro? Fai altro, oltre alla musica scritta da te? Allora, diciamo che so cantare qualsiasi genere, insomma, però predirigo appunto il neomelodico, perché è quello che mi appassiona molto di più quando devo cantare. Anche al pubblico piace molto di più questo genere musicale. Ho realizzato due lavori discografici. Uno nel 2007 dal titolo Non ti amo più e uno l'anno successivo dal titolo Io sono magica, con autori come Toni Colombo, Gianni Luna, Gianni Nani e tanti altri, insomma. Poi più due brani inediti, due singoli, scritti da Toni Ferreri, di cui uno c'è anche un videoclip ufficiale su YouTube, sul mio canale YouTube. C'è una pagina ufficiale, insomma, un'agenzia, un mezzo. Sei abbastanza seguita. Abbastanza, non mi posso lamentare, devo dire che c'è un discreto pubblico. Come continui con i tuoi live? Cosa fai per ora? Per adesso abbiamo partecipato ad uno spettacolo a Termini Merece qualche giorno fa al Teatro Eden, con tantissimi ospiti. È stata una bellissima serata. Adesso ci prepariamo per l'estate, insomma, per le feste di piazza. Quindi vai in giro in feste di piazza. Sì, sì. Domani sera sarò in diretta in una TV locale, appunto, di Palermo, sempre per promozionare i miei brani. Insomma, ci diamo da fare. Insomma, sei sempre attiva. Sì, sì. Per quel che si può siamo sempre in movimento, insomma. Grazie anche al mio manager, alla mia agenzia e tutto quanto. Ah, quindi grazie ad un'agenzia che ti fa fare anche spettacoli in giro per la SIG. Esatto, sì. Si occupano appunto loro di prendere questi impegni, di curare la mia immagine, ecco. Va bene, grazie per queste parole. Purtroppo abbiamo davvero pochissimo tempo. Noi ti ringraziamo e speriamo di sentirci presto, come anche con i tuoi brani che ci proporrai. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. E spero di venirvi a trovare qualche volta, molto presto. Sì, anche in studio. Anche in studio. Grazie mille. Va bene. Una buona serata e un buon seguimento. Grazie. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao.